con auto e moto d'epoca tra sogni e realtà andiamo a scoprire ruote da sogno un vero scrigno di due quattro ruote d'epoca e sportive oggi auto e moto d'epoca vi porta a scoprire un luogo suggestivo siamo a reggio emilia nel quartier generale di ruote da sogno un dealer che da anni partecipa al salone e che tratta con uguale attenzione sia automobili che moto d'epoca che sposa quindi a 360 gradi la vocazione del nostro evento ruote da sogno segue standard qualitativi di alto livello sia nella scelta dei veicoli sia nell'attenzione al loro stato di conservazione ed originalità una strategia commerciale che pone il brand tra gli operatori di settore di fascia alta ovvero quelli che contribuiscono al posizionamento di auto e moto d'epoca tra i grandi eventi internazionali ruote da sogno è un'idea nata per caso in pratica la soglia dei 60 anni avevo bisogno di stimoli nuovi essendo un imprenditore avevo bisogno di trovare qualcosa per esprimere nuovi sogni nuovi concetti la prima cosa che mi è passata per la mente è stata quella di iniziare ad acquistare moto che ho avuto in gioventù e dal primo giorno abbiamo cominciato ad acquistare delle moto poi pian pianino abbiamo detto vabbè la sua prima moto era un KTM 125 poi vabbè perché non prendi 175 perché non compri due e mezzo e via via e così abbiamo collezionato tutti i KTM poi siamo passati alla Honda perché se qualche KTM deve avere qualche Honda Morale della favola sono state acquistate 3000 moto in questi quattro anni poi da lì è nata anche l'idea delle auto di conseguenza oggi abbiamo 150 auto credo di aver portato una imprenditorialità in un settore dove è sempre stato abbastanza latitante e oggi molti colleghi ci riconoscono che abbiamo portato tanta linfa vitale nel settore abbiamo rivitalizzato addirittura anche colleghi che erano un po stanchi ci crediamo oggi molto siamo sicuri che la Motor Valley è una zona invidiata da tutto il mondo e di conseguenza Reggio Emilia ne fa parte e ruote da sogno pure abbiamo 35 componenti tra dipendenti e collaboratori su una superficie di 7000 metri quadrati che ci consente di dare un servizio non indifferente al cliente noi ci crediamo tanto nella trasparenza e nel servizio questa era una fabbrica di cilindri e in sei mesi lavorando 24 ore al giorno siamo riusciti a fare una cosa penso che in italia sia quasi impossibile e l'abbiamo ristrutturato con un bravissimo architetto in quattro anni di storia io non sono mai riuscito a descrivere questa azienda perché non è semplice a chiunque tento di descriverla poi in realtà quando la persona viene qua rimane stupito in maniera positiva per quanto riguarda gli eventi fieristici noi siamo stati praticamente in quasi tutte le fiere d'europa e abbiamo dovuto fare una selezione oggi crediamo che padova sia la fiera più interessante per quanto ci riguarda che c'è un contatto col pubblico veramente interessante dove poi si possono fare veramente delle compravendite e fidelizzare il cliente e i sogni me li sto quasi togliendo tutti volevo una stratos verde pisello e finalmente è arrivata qualche sogno rimasto nel cassetto ma non posso dirla da molti anni ruota da sogno è tra più entusiasti sostenitori di auto e moto d'epoca di padova uno dei saloni più importanti in europa dove passione e mercato si incontrano negli ultimi anni ruota da sogno ha partecipato ai più importanti saloni di auto d'epoca in europa per cui ci sentiamo di affermare senza tema di smentite che oggi questo salone rappresenta sicuramente un'eccellenza italiana di cui andare fieri un evento che non conosce i limiti di età in grado di emozionare tutti uomini donne giovani appassionati o anche semplici curiosi un evento da cui si esce culturalmente arricchiti ci sentiamo di dire in particolare per ruote da sogno il salone di padova rappresenta soprattutto l'apertura di un nuovo anno commerciale perché è lì che maturano le strategie per l'anno alle porte è lì che si analizzano le quotazioni delle auto esposte e le tendenze del mercato che verrà in definitiva auto e moto d'epoca rappresenta il principale borsino italiano per intercettare il sentiment degli appassionati e dei collezionisti e per indirizzare le scelte strategiche degli operatori verso un determinato segmento o di particolari modelli di auto possiamo comunque affermare che per noi ogni edizione di auto e moto d'epoca ha sempre segnato un progressivo miglioramento e la conseguenza di questa crescita è stata senz'altro l'aumento progressivo degli spazi espositivi riservati a ruote da sogno è sempre una sfida eccitante riuscire a replicare i nostri 8 mila metri quadri di showroom all'interno del salone di padova ma crediamo che questo evento internazionale sia già in grado di soddisfare anche il più esigente degli espositori e ruote da sogno lo è il viaggio di auto e moto d'epoca prosegue tra le eccellenze del motorismo storico italiano arrivederci alla prossima puntata in attesa di ritrovarci tutti insieme a padova in ottobre i biglietti per auto e moto d'epoca sono già in prevendita sul nostro sito iscriviti al canale